Amici di Primo Canale, bentrovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Una giornata di venerdì che vedrà cieli sereni un po' cumulosi su tutta la Liguria, ma soprattutto ancora grande caldo. Nel dettaglio andiamo a vedere in Periese tempo soleggiato, locali temporali del pomeriggio sulle aree più interne, altrove invece sole e temperature oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui tanto sole, bel tempo su tutte le zone di mare con venti deboli e mari quasi calmi. Provincia di Genova, ampia apertura del cielo, soprattutto caldo intenso, una giornata pienamente estiva, ma le temperature del pomeriggio toccheranno anche i 32 gradi in alcune zone. E poi il Tiguglio, piena estate, cieli sereni un po' cumulosi, ancora condizioni perfette per tutti i vacanzieri del mare, con temperature attorno ai 30-32 gradi. Lo spezzino, sole, caldo intenso, venti deboli o moderati, con mari in prevalenza, quasi calmi o poco mossi. Giornata di sabato, che vedrà un po' di più variabilità tra sole e qualche annuvolamento. Inizierà a ruotare la ventilazione da sud per l'avvicinamento di una perturbazione. Difatti nel corso di domenica possiamo notare come ci saranno dei temporali in arrivo, soprattutto nella seconda parte del giorno, e con questi temporali inizieranno a calare le temperature. Fine della grande ondata di caldo entro unedì. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo. Grazie a tutti.